Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per la vostra presenza. Il nostro solito intento in questo momento è quello di ricordare la festa dell'Equifania che noi chiamiamo, nel top tempo, la Befana. Allora cantiamo qualche canto natalizio e qualche canto intitolato alla Befana. Il primo canto che vi vogliamo ascoltare è un canto natalizio cieco-slovacco intitolato a Betremme suonatori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.